Ciao a tutti, sono qui sulla spiaggia di Tore Molinos vicino a Malaga in Andalusia. Da questo luogo meraviglioso, qui c'è stata appena l'alba, voglio augurarvi delle bellissime feste, soprattutto quello che voglio augurarvi, qualunque sia il vostro credo, non è tanto importante quello. Questo per me è un momento di passaggio, è un momento di passaggio che tutti noi possiamo vivere, a prescindere da quello che noi crediamo. Il passaggio che stiamo vivendo è un passaggio che ci permetterà di andare sempre più verso la nostra luce, sempre più verso l'espressione del magico essere divino che noi siamo. E quindi questo è l'augurio che voglio lasciare a tutti voi, che voglio lasciare a te, e che voglio lasciare a tutte le persone, anche che non mi conoscono e che non mi seguono, che ciascuno possa veramente esprimere la propria luce, il proprio divino, e imparare a brillare, ad essere più forti di quel velo di paura che ci separa a volte dall'espressione massima di quello che siamo e della nostra felicità. Quindi ricordati che oltre quel velo di paura, che molto spesso hai il terrore di attraversare, c'è la massima espressione di te, c'è la tua gioia, la tua felicità e la tua realizzazione. E questo è quello che voglio trasmetterti e augurarti veramente un periodo luminoso, dove tu veramente possa riappropriarti di quello che sei a livello più profondo. Ti mando un abbraccio di cuore e ti auguro veramente di risplendere tutta la tua luce. Ciao! Ciao!